ci fu un tempo in cui entravo in una chiesa un giorno dopo l'altro perché una ragazza della quale mero innamorato pregava la di sera in ginocchio per mezz'ora ed io nel frattempo potevo osservarla con calma una volta che la ragazza non venne mentre osservavo infastidito la gente in preghiera notai un giovane che sarà buttato per terra con tutto il suo esile corpo ogni tanto afferrava violentemente il suo cranio e poi lo percuoteva sospirando sulle mani posate sul pavimento di pietra nella chiesa c'erano soltanto alcune vecchie che giravano ogni tanto le loro testoline coperte da un fazzoletto per sbirciare il giovanotto in preghiera egli sembrava compiacersi di quell'attenzione infatti prima dei suoi slanci di devozione si guardava attorno per accertarsi di essere osservato ritenne che il suo comportamento fosse sconveniente e decisi di rivolgergli la parola appena fosse uscito dalla chiesa per domandargli la ragione di quel suo modo di pregare sì ero seccato perché la mia ragazza non era venuta salzò soltanto dopo un'ora fece un accurato segno di croce e s'avviò a scatti verso l'acquasantiera mi misi tra la pila dell'acquasantia e la porta sapendo che non l'avrei lasciato passare senza una spiegazione contrassi le labbra come faccio sempre quando voglio prepararmi a parlare con fermezza avanzai con la gamba destra e mi appoggiai su di essa la sinistra si reggeva con non curanza sulla punta del piede anche questo mi dà sicurezza può darsi che quel uomo mi adocchiasse già mentre si spruzzava l'acqua benedetta forse mi aveva notato ancora prima con un certo allarme visto che improvvisamente infilò la porta di corsa la porta a vetri si chiuse di colpo quando uscì dopo di lui non lo vidi più in quel posto ci sono molte viuzze e il traffico intenso i giorni seguenti rimase assente ma venne la mia ragazza indossava l'abito nero con un spizzo trasparente sulle spalle la scollatura a mezzaluna della camicetta si trova sotto rifinito da un collettino di buon taglio essendo venuta la ragazza mi scordai del giovane e anche quando prese a tornare regolarmente pregando alla sua maniera non mi occupai di lui però continuava sempre a passarmi davanti in gran fretta con la faccia girata forse per questo potevo immaginarmelo soltanto in movimento e anche quando stava fermo mi pareva che strisciasse una volta mi tardai nella mia stanza però andai in chiesa lo stesso non vi trovai più la ragazza e mi disposi a tornare a casa il giovane era di nuovo lì per terra l'antico episodio mi tornò alla mente e mi incuriosì scivolai in punta di piedi verso l'ingresso diede una moneta al mendicante cieco che stava lì accanto e mi infilai vicino a lui dietro al battente aperto ci restai per un'ora intera assumendo forse un'espressione sorgnona mi sentivo bene in quel posto e decisi di tornarci spesso verso la seconda ora mi sembrò assurdo restare in quel posto per l'orante tuttavia lasciai passare furibondo una terza ora mentre i ragni si arrampicavano sul mio vestito e le ultime persone sortivano sospirando dal buio della chiesa finalmente arrivò anche lui avanzava cautamente e i suoi piedi tastavano piano piano il suolo prima di calpestarlo mi raddrizzai fece un gran passo ed ferrai il giovanotto buonasera dissi spingendolo per i gradini con la mano sul bavero verso la piazza illuminata quando fumò in basso mormorò con voce mal sicura buonasera caro caro signore non sarrabbi con me che sono il suo devotissimo servitore già esclamai voglio chiederle qualcosa signor mio altra volta è riuscito a sfuggirmi ma è difficile che oggi ci riesca lei è comprensivo signore e mi lascerà tornare a casa sono da compatire questa è la verità no urlai sopra il frastorno del tram che stava passando non la lascio sono proprio queste le storie che mi piacciono di più la sua cattura è per me un colpo di fortuna e me ne rallegro con me stesso lui rispose oddio lei ha un cuore vivace una testa come una riete afferma che io sono per lei un colpo di fortuna quanto deve essere fortunato perché la mia è una sfortuna oscillante una sfortuna oscillante sopra una cima a guzza e basta toccarla per farla precipitare sull'interrogante buonanotte signor mio bene dissi trattenendolo per la strada se lei non mi risponderà mi metterò a gridare qui nella strada e tutte le commesse che stanno uscendo dai negozi e tutti i loro amanti che già pregustano la loro compagnia accorreranno pensando che sia caduto il cavallo di una vettura di piazza o sia avvenuto qualcosa del genere e io la mostrerò alla gente allora piangendo si mise a baciare alternativamente le mie mani le dirò quanto vuol sapere ma andiamo piuttosto in quella via laterale a noi e andammo ma non gli bastò l'oscurità della stradina dove i lampioni gialli erano abbastanza distanti l'uno dall'altro e mi condusse in un basso vestibolo di una vecchia casa sotto una lampada sgocciolante appesa di fronte alle scale di legno poi con fare implorante prese il suo fazzoletto e lo stese su un gradino dicendo sedetevi caro signore qui potete domandare meglio io rimango in piedi così posso rispondere meglio ma non mi tormentate mi sedete e cominciai guardandolo con gli occhi socchiusi voi siete proprio uno scriteriato ecco quello che siete in che maniera vi comportate in chiesa fa rabbia ed è sgradevole per chi assiste come ci si può raccogliere in preghiera quando vi si vede aveva premuto il corpo contro il muro e muoveva liberamente solo il capo non vi arrabbiate perché dovreste arrabbiarvi per cose che non vi toccano io mi arrabbio se mi comporto in maniera sconveniente però se lo fa un altro me ne rallegro quindi non arrabbiatevi ci affermo che lo scopo della mia vita è di essere guardato dalla gente che state dicendo esclamai in tono troppo alto per quel piccolo androne ma poi ebbi timore di abbassare la voce davvero che andate mai dicendo già immagino la immaginavo in che stato vi trovate da quando vi ho visto oggi per la prima volta ho esperienza e non scherzo se dico che si tratta di mal di mare sulla terra ferma consiste nel dimenticare i nomi veri delle cose e profondere frettolosamente su di esse dei nomi a caso ma di furia però appena siete scappato da essi avete dimenticato nuovamente i loro nomi il pioppo dei campi che avete chiamato torre di babele perché non sapevate o non volevate sapere che era un pioppo onde già nuovamente senza nome e voi dovete chiamarlo no è mentre era ubriaco fui alquanto sbigottito quando disse sono contento di non aver capito quanto avete detto irritato replica in fretta affermando di essere contento dimostrate di aver capito certo che l'ho dimostrato e greggio signore ma anche voi avete parlato in modo strano appoggiai le mani su un gradino superiore mi piegai all'indietro e chiesi in quella posizione quasi inattaccabile che è l'ultima salvezza del lottatore avete una strana maniera di cavarvi di impaccio avanzando l'ipotesi che gli altri si trovino nella vostra condizione allora si fece ardito uni le mani per dare unità al suo corpo e disse con una leggera riduttanza no non lo faccio contro tutti neanche contro di voi per esempio perché non posso ma sarei contento di poterlo fare così avrei bisogno di suscitare l'interesse della gente in chiesa sapete perché ho bisogno di farlo questa domanda mi mise a disagio certo non lo sapevo e credo di non volerlo neanche sapere non avevo neanche voluto venire là mi disse allora ma quell'uomo mi aveva costretto ad ascoltarlo perciò bastava che scuotessi il capo per mostrargli che non lo sapevo ma non riuscivo a muovere la testa l'uomo che mi stava di fronte sorrise poi si piegò sulle ginocchia e mi raccontò con una smorfia sonnolenta non c'è mai stata una volta in cui mi sia convinto della mia vita attraverso me stesso io afferro le cose intorno a me con immagini tanto labili e credo sempre che le cose siano vissute un tempo ma ora stiano affondando desidero sempre caro signore vedere le cose come si vogliono offrire piuttosto che come si mostrano esse sono qua belle tranquille deve essere così perché sento spesso la gente parlare di loro in questa maniera poiché tacevo e soltanto alcune contrazioni involontarie del mio volto tradivano il mio imbarazzo e gli mi chiese non crede che la gente parli così ritenni di dover annuire ma non ne fui capace davvero non ci crede ne ascolti dunque una volta mentre ero ancora bambino aprì gli occhi dopo un sonnellino pomeridiano e udì ancora mezzo addormentato mia madre che domandava dal balcone con voce naturale che cosa sta facendo mia cara è così caldo una donna rispose dal giardino faccio merenda in mezzo al verde lo disse senza riflettere e non troppo chiaramente come se tutti se l'aspettassero mi sembrò di essere stato interpellato e misi la mano nella tasca posteriore dei pantaloni come se vi cercassi qualcosa ma non cercavo niente volevo solo modificare il mio aspetto per dimostrare che partecipavo alla conversazione nel fare questo affermai che quel caso era tanto strano e io non lo capivo affatto soggiunsi inoltre che non credevo fosse vero e che doveva essere stato inventato per un determinato scopo che per l'appunto non potevo comprendere poi chiusi gli occhi perché mi facevano male è un bene che voi siate del mio stesso parere ed è stato un gesto altruistico fermarmi per dire questo è vero perché dovrei vergognarmi oppure perché dovremmo vergognarci che io non inceda impettito e grave non batta il bastone sul selciato e non sfiori gli abiti della gente che passa rumorosa non avrai piuttosto il diritto di lamentarmi con ostinazione di dover saltellare come un'ombra dalle spalle angolose lungo le case sparendo talvolta nei cristalli delle vetrine che giornate sto vivendo perché tutto è costruito tanto male che a volte crollano delle grandi case senza che ne possa trovare una ragione esteriore io mi arrampico allora sulle macerie e chiedo a chiunque mi capiti di incontrare come è potuto mai accadere nella nostra città una casa nuova è già la quinta oggi ci pensi e nessuno in grado di rispondermi spesso qualcuno cade per la strada rimane là morto allora tutti i negozianti aprono le porte con le merci appese si avvicinano con agilità trasportano il morto in una casa riescono fuori con un sorriso sulle labbra e sugli occhi e chiacchierano buongiorno il cielo è grigio vendo molti fazzoletti per coprirsi la testa già la guerra io saltello nella casa e dopo aver alzato più volte timidamente la mano col dito piegato busso infine alla finestrella del portinaio buon uomo dico affabilmente hanno portato da lei un morto me lo mostri per favore e quando costui scuote il capo come se esitasse dico in tono deciso buon uomo sono un agente segreto mi mostri subito il morto un morto domanda adesso ed è quasi offeso no non abbiamo morti qui questa è una casa seria il saluto e me ne vado ma quando devo attraversare una grande piazza dimentico tutto la difficoltà di questa impresa mi confonde e penso spesso tra me se si creano piazze così grandi solo per superbia perché non si costruisce anche una balaustra di pietra che le attraversi oggi soffia il libeccio l'aria nella piazza è agitata la cuspide della torre del municipio descrive dei minuscoli cerchi perché non si fa un po di calma nella calca tutti i vetri delle finestre schiamazzano e i pali dei lampioni si piegano come canne di bambù il manto della madonna sopra la colonna si torce e l'aria impetuosa lo tira non lo vede nessuno i signori e le signore che dovrebbero andare sul selciato sono sospesi in aria quando il vento prende fiato si fermano si dicono qualche parola e si inchinano salutando ma quando il vento riprende a soffiare non possono resistergli e tutti alzano i piedi contemporaneamente devono sì tener stretti i loro cappelli ma i loro occhi sono allegri come se il tempo fosse mite io solo ho paura maltrattato come ero dissi la storia che lei prima ha raccontato cioè quella della sua signora madre e della donna nel giardino non mi pare affatto strana non soltanto ho udito e vissuto molti episodi analoghi ma ho preso anche parte direttamente ad alcuni la cosa è assolutamente naturale pensa che se fossi stato io sul balcone non avrei detto la stessa cosa e che non avrei potuto dare la stessa risposta dal giardino un caso così semplice sembra molto felice quando dissi questo affermò che ero vestito bene e che la mia cravatta gli piaceva molto e che pelle morbida avevo e che le confessioni sarebbero anche più chiare se le revocassimo